Buongiorno, in questo video vi voglio presentare una laurea magistrale internazionale che si chiama Economic Policies in the Age of Globalization, l'acronimo è EPOC. Il Dipartimento di Economia di Roma 3 fa parte del Consorzio Internazionale di Università che ha dato vita a questo programma. Le altre università sono quelle di Vienna, Berlino, Parigi, Sorbona e Torino. Questo programma permette di conseguire un doppio titolo rilasciato nel caso che si frequenta il primo anno a Roma 3 dall'Università di Roma 3 e dall'Università di Parigi. Oltre al conseguimento del doppio titolo, un altro vantaggio di questo programma è il fatto che si ha l'opportunità di frequentare i corsi insieme a un gruppo di studenti selezionati per merito che provengono da tutti i paesi del mondo, quindi una grande ricchezza culturale e inoltre di venire a contatto con un insieme di docenti, anche loro con una forte internazionalizzazione. attenzione, l'ammissione a questo corso di laurea funziona diversamente dalle ammissioni ai corsi di laurea italiani, diciamo. C'è una selezione centralizzata fatta dal Consorzio di Università che seleziona gli studenti sulla base del merito, quindi dei voti conseguiti e anche di una prova orale. Tra gli studenti selezionati alcuni otterranno anche una ricchissima borsa di studio finanziata dalla Commissione Europea che consente di coprire tutte le spese di mantenimento per i due anni di durata del corso. È quindi un programma molto interessante e vi invito caldamente ad andare sul sito per ottenere altre informazioni e a candidarvi.